Buongiorno a tutti. Oggi alla rubrica A domanda risponde parleremo di elenchi aggiuntivi prima fascia GPS per l'anno scolastico 2021-2022. La prima domanda che abbiamo selezionato tra le domande che sono arrivate in redazione è la seguente. Ho superato il concorso straordinario 2020 e sono già inserito in gradatoria di merito. Posso fare domanda per essere inserito negli elenchi aggiuntivi prima fascia GPS? No, il concorso straordinario 2020 per il Ministero dell'Istruzione non ha per adesso valore abilitante per cui non è un'abilitazione e non essendo tale non ci si può inserire in gradatoria prima fascia GPS. Bisogna dire che l'orientamento del Ministero dell'Istruzione è quello di considerare l'abilitazione del concorso straordinario 2020 solamente dopo l'immissione in ruolo e da tale gradatoria di concorso straordinario è il superamento dell'anno di prova. Seconda domanda, conseguirò il titolo di specializzazione sul sostegno il 28 luglio 2021. Potrò ugualmente inserirmi negli elenchi aggiuntivi GPS prima fascia? Sì, potrai sicuramente inserirti entro il prossimo 24 luglio 2021 con riserva però. Tale riserva sarà poi sciolta a seguito di comunicazioni via pecche dell'avvenuto conseguimento del titolo agli uffici competenti entro il giorno 1 agosto 2021. Terza e ultima domanda, non sono inserita in nessuna GPS ma ho conseguito nel 2021 il titolo di sostegno e la laurea in Scienze della Formazione Primaria. Posso inserirmi negli elenchi aggiuntivi GPS prima fascia? Sì, potrai inserirti in elenchi aggiuntivi prima fascia del tab 1, cioè la gradatoria infanzia e primaria prima fascia GPS e in elenchi aggiuntivi GPS prima fascia tab 7, cioè gradatoria di sostegno prima fascia GPS. Se chiaramente la gradatoria di sostegno poi si suddividerà in sostegno per l'infanzia, sostegno per la primaria, sostegno per le scuole medie e sostegno per le scuole superiori. Dipende poi dal titolo specifico di sostegno che uno possiede. In modo da procedere poi alla scelta della provincia di inserimento e sino a un massimo di 20 istituzioni scolastiche nella medesima provincia scelta per ogni insegnamento per il quale dichiara il possesso del titolo di abilitazione o di specializzazione. Speriamo che le risposte date a queste domande siano utili ai nostri lettori. Poi seguiteci nei nostri canali social, sia YouTube sia Facebook, ma anche nel sito www.tecnica-dellascuola.it perché parleremo ancora di missioni ruolo ed elenchi aggiuntivi prima fascia GPS e tanto altro ancora. Arrivederci e un saluto a tutti. Grazie a tutti.